Abbiamo visto insieme che esistono diversi metodi per poter truffare, per poter hackerare gli account dai quali cerco sempre di farvi stare molto lontani e farvi prestare attenzione Ma questi metodi sono sempre in continua evoluzione, è veramente una roba assurda e andremo a vedere nuove cose che si sono inventate che sono fuori di testa Mi raccomando lasciate un bel like, ma iniziamo subito Come molti di voi sapranno, è stata fatta la migrazione che aveva come obiettivo quella lì di andare a migliorare la sicurezza Perché prima venivano hackerati tantissimi account, esistevano dei veri e propri shop per gli account e ne venivano hackerati centinaia se non migliaia al giorno Ma il problema è che con questa migrazione che la Mojang ha fatto insieme alla Microsoft in realtà purtroppo ci sono dei bug o comunque degli escamotage per poter superare tutto il sistema nuovo di sicurezza e quindi rimanere in realtà alla fine sempre punto e da capo La cosa più particolare di tutte che abbiamo visto è quella lì è quella lì che ha come metodo il riuscire a ottenere il fatto che tu clicchi quello che loro vogliono Per esempio fanno finta di star registrando un video che magari stanno facendo degli 1v1 e se perdono regalano dei VIP perché su Epixel per esempio c'è la possibilità di poter regalare VIP e per esempio se ne regali 100 sblocchi un rank particolare e un sacco di persone ambiscono a questo rank e magari fanno finta che lo stanno regalando facendo delle challenge in modo tale da regalarlo a qualcuno per ottenere quel rank ed è per questo che Epixel è il server più colpito perché dove appunto si può fare questa cosa e quindi le persone ci possono credere oppure altre persone ancora in realtà se non mi sbaglio ho anche fatto un video in passato del genere se una persona mi batteva poteva vincere un cosmetico gratis dal Lunar Client ora non capita tutti i giorni di ricevere un cosmetico gratis o un VIP gratis quindi le persone non sanno bene quale immagine gli deve apparire quale link gli deve apparire a te regalano roba tutti i giorni? a me no cioè a chi mi regala roba niente e giocano tutto su questo fatto ovvero che devi cliccare un link che serve per selezionare il prodotto oppure serve per poter ricevere sul tuo account il regalo oppure serve per poter confermare il VIP che vuoi ricevere su Epixel insomma il tutto sta nel cliccare questo link queste in realtà sono cose che abbiamo già visto insieme e sono quelle là che all'inizio erano le più assurde ma la gente è in grado di evolversi a livelli assurdi cioè sembrano dei Pokémon questi non sono dei truffatori cioè proprio hanno le evoluzioni ora passiamo quindi a qua non ci credo ho perso il letto mentre cadevo nel vuoto quindi con questi metodi sono in grado non appena tu clicchi il link di poterti direttamente rubare l'account perché riesce a superare le verifiche e le conferme che si dovrebbero fare ma ora ipotizziamo una nuova cosa ipotizziamo che tu sei un ragazzo che sta così bello tranquillo sta giocando su Coral dimenticavo di dirvi hacker del genere ne esistono anche italiani e ripropongo l'appello se uno di questi hacker vuole fare un video per raccontare rimanendo magari nell'anonimo per raccontare bene dal punto di vista di un hacker questa situazione io sto qui apposta ipotizziamo che tu ti chiami Leonardo prendiamo il rosa che sta in questa partita ok scusami Leonardo Leonardo vuole giocare con degli amici però vuole giocare con qualcuno alle bedwars e invece di unirsi al mio server discord Leonardo ma che cabbo fai quello che fa è mettersi a giocare delle duo da solo e trovarsi un compagno random questo compagno random mi dice ti va di venire a giocare con me ci sta questa community di discord ci sta questa community per le bedwars siamo tutti quanti insieme giochiamo e Leonardo finalmente ha trovato i suoi amici Leonardo finalmente può giocare le bedwars in compagnia di qualche teammate di qualcuno mamma mia e ora non so se si può fare per Coral ma per esempio per i pixel esiste l'integrazione di discord che ti permette quindi di collegare l'account e di poter mettere le tue statistiche le tue stelle eccetera 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 e se io facessi una verifica finta che faccio finta di starti connettendo ad i pixel ma in realtà mi stai dando la tua email o la tua password oppure semplicemente metti la tua email e mi mandi il codice di verifica che dovrebbe collegare l'account ma in realtà collega me al tuo account e me lo rubo non so se dire che questa cosa è geniale oppure dire che è assurdamente cattiva come cosa da fare perché veramente deve avere proprio ce ne vuole per arrivare a pensare a una cosa del genere ma è quello che sono riusciti a fare e nel momento in cui una persona sente di questa storia può subito collegarla e quindi fare attenzione ma immaginate che dal nulla vi ritrovate in una situazione del genere andreste mai a pensare che state dando il vostro account minecraft a qualcuno con una semplice integrazione di discord e ci sono delle persone che hanno riportato già dei server discord perché fanno queste cose c'è questo ragazzo su twitter che si chiama sadcat che ci è finito proprio in mezzo a questa situazione stava semplicemente facendo amicizia con un ragazzo nella lobby di apixel questo ragazzo gli ha chiesto di parlare insieme l'ho invitato nel suo server discord e poco dopo si è ritrovato senza account e quindi leonardo che magari era semplicemente anche un ragazzo sp perde il suo account su coral oppure perde il suo account minecraft in generale e si ritrova così quindi di punto in bianco leonardo senza niente ora esistono poche cose che potete fare per fare attenzione sicuramente la prima è quella lì di non cliccare my link specialmente se vi dicono di regali o cose del genere o fate attenzione perché non sono tutti babbo natale oppure comunque in generale sia per un cosmetico del lunar che il bad lion che un vip sui pixel che un vip su coral che un vip al bardo lo vuoi non serve un link ve lo posso andare direttamente se voglio ma ora mi dispiace ma non siete tranquilli neanche più quando vi uniti ad un server discord quindi fate molta attenzione entra nel mio se vuoi ma fate attenzione comunque in generale vi avevo già parlato o almeno diciamo introdotto questo argomento in un altro video però signori come vedete questa roba è in continua evoluzione e secondo me è giusto parlarne o comunque fare attenzione per una cosa del genere perché anche se ho aiutato chi ne sai una persona io già sono contento e sai voi invece come mi potete aiutare con una bella e chisi ovviamente stanno già cercando di fare in modo di andare a evitare il tutto anche se ovviamente chi dovrebbe farlo più di tutti in assoluto è la microsoft stessa per raggiungere qualche verifica magari di ip magari di posizioni magari di cose del genere fate conto che ognuno di noi dentro il nostro punto minecraft abbiamo un token questo token se uno lo riesce a prendere in qualsiasi modo anche non direttamente correlato a minecraft può direttamente giocare senza aver bisogno né di email né di password e non è in alcun modo censurato né in alcun modo protetto questo token potenzialmente anche se vi fa un controllo hack una persona che non è di uno staff di un server conosciuto come coral ma di un server con 10 on anche lì in realtà è pericoloso e dovete fare attenzione dove va a mettere le mani ovviamente non sto accusando nessuno è che sia chiaro un modo in cui sta cercando di bloccare di limitare questa cosa ai pixel è bloccare qualsiasi tipo di fake link che si possa inviare in chat perché giustamente le persone per farti riscattare il finto VIP creano proprio il sito con il dominio e ci cambiano un punto spostato una lettera una virgola qualcosa però tramite discord o generando sempre dei nuovi link questa cosa purtroppo è molto bypassabile non mi ricordo se già ve l'ho raccontato ma truef stesso stava finendo in una truffa del genere con appunto questo ragazzo che si era anche impegnato a fare più round diversi fare alla meglio di tre alla fine truef era riuscito a vincere ma alla fine truef è rimasto fregato perché alla fine quando doveva andare a riscattare il suo premio gli ha inviato un link stra fake truef gli ha anche detto bro ma il link è fake il tizio l'ha riempito di insulti e poi l'ha bloccava povero truef si è ricevuto degli insulti e non erano da me potrebbe la mojang in realtà con il sistema di chat report che ha messo fare in modo che magari si possono reportare le persone che ti mandano fake link o cose del genere e quindi farle proprio bannare direttamente da minecraft questa sarebbe una roba veramente veramente top e non ci avevo pensato mi è venuto in mente ora mentre ve ne stavo parlando cioè immaginate che appunto tra tutte le cose che si può fare di report si può mettere questa qui in inviare i fake link reportarlo con tanto poi di prove e tutto perché si può fare dentro i report di minecraft e quindi boom una alla volta anche se magari ci saranno sempre degli account che hanno questi perché se riescono ad hackerarli per forza riusciranno sempre ad avere degli account ma secondo me in questo modo la roba viene limitata veramente veramente un botto oddio c'è uno qua in base io volevo posare tutta la roba fammela posare un attimo che paura meno male che volevo fare screen sennò perdevo tutto e di conseguenza pure la baddors voi siete mai stati hackerati oppure qualche vostro amico o qualcuno in generale che conoscete è stato hackerato raccontatemelo un po' nei commenti perché sono sicuro che è successo anche in Italia roba del genere come vi dicevo sono a conoscenza di hacker italiani che lo fanno tra l'altro essendo che uno va a perdere anche l'account Microsoft proprio in generale tu all'account Microsoft in realtà puoi anche collegare la carta di credito oddio 200Q mamma mia che roba e quindi perdere comunque la carta di credito che è collegato alla carta potrebbero fare degli acquisti e non puoi contattare il supporto di Microsoft perché ti serve il tuo account Microsoft stesso e quindi lo perdi completamente gli account che sono stati persi nessuno degli account persi è stato recuperato allora signori mi raccomando lasciate un bel like ci si becca domani con un nuovo video mi raccomando restate aggiornati bella mi raccomando